Leggere i segni dei tempi, dare risposte, essere misericordiosi, non lasciarsi prendere dall'attivismo, fuggire dal clericalismo, andare verso le periferie reali ed esistenziali. E' la linea di impegno tracciata dal Papa nel discorso ai partecipanti all'incontro internazionale il progetto pastorale di Evangelii Gaudium, organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, in corso in Vaticano dal 18 al 20 settembre. Nelle difficoltà come nelle delusioni che sono presenti non di rato nel nostro lavoro pastorale, ha detto il Papa, abbiamo bisogno di non venire mai meno nella fiducia nel Signore, nella preghiera che la sostiene. Non dimentichiamo che l'aiuto ci viene dato in primo luogo proprio da quanti sono da noi avvicinati e sostenuti. Facciamo il bene ma senza aspettarci la ricompensa. Seminiamo e diamo testimonianza. La testimonianza è l'inizio di un'evangelizzazione che tocca il cuore e lo trasforma. La Chiesa, ha aggiunto il Papa, deve essere segno della vicinanza, della bontà, della solidarietà e della misericordia del Signore.